Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale. Carissimi fagnanesi, è la settimana di Natale, ma non ho bellissime notizie per tutti voi. I positivi ad oggi a Fagnano sono 100 e i contatti di caso sono 71. Come ben vedete il numero delle persone che si sono contagiate di Covid è aumentato in linea con tutto ciò che è la pandemia a livello nazionale e regionale. Teniamo presente una cosa molto importante, essere positivi al Covid non è una colpa, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di stare attenti e rispettare tutte le normative e informazioni che ci vengono date dalla Regione, dallo Stato e anche dal Comune. Per questo il Comune di Fagnano, che non ha mai chiuso il COC, che è il numero e le informazioni per il Covid, e l'ha sempre tenuto attivo, in questo video vi rende noto tutto ciò che serve in caso di necessità per alcune informazioni. Il numero di telefono del COC per il Covid e serve per l'assistenza domiciliare per i pasti medicinali e i beni di prima necessità è questo. 348 851 6967, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, escluso nei giorni festivi. Per altri numeri di telefono importanti per il Covid, il numero verde di Regione Lombardia, 800 894 545, oppure il numero dell'ATS in Subria, 800 796 9622. L'ATS in Subria ha anche un centralino con due numeri, il primo numero 031 370 111, il secondo numero è 0332 277 111. Non ho notizie o informazioni da darvi sugli eventi, l'unica cosa che voglio dirvi è raccomandarvi con voi per passare le feste in tranquillità e mantenere un minimo di distanziamento tra le persone, anche tra i familiari. Non facciamo assembramenti possibilmente, sfruttiamo questo tempo per cercare di riportare un po' alla normalità la situazione e potremo tornare davvero tutti insieme a poter festeggiare tranquillamente le gioie che la vita ci riserva. Non mi resta altro che augurarvi un sereno, un felice e gioioso Natale a tutti voi, a tutte le famiglie, a tutte le persone che non hanno qualcuno con cui festeggiarlo e che sono sole. Il saluto da parte mia, di tutta l'amministrazione comunale e di tutto il Comune. Carissimi fagnanesi, ci vediamo alla prossima settimana per gli auguri di buon anno. Grazie. Grazie.